cioè ragazzi ma quanto si può godere per una situazione del genere davvero tantissimo sapete che cerco di essere sempre equilibrato nonostante sia tifoso comunque della juventus quando parlo delle altre squadre e cerco di non gioire non gioisco quasi mai per le disgrazie degli altri però questa situazione è veramente da delirio da risate veramente fragolose ho evitato avrete notato che ho evitato di parlarvi sia della questione della conferenza stampa a dimara nel ritiro del napoli in cui un tifoso ha preso la parola e ha chiesto a verdi come si sente a portare la maglia numero 9 che era la maglia del maiale chiamando così Gonzalo Higuain si è evitato di parlarvi della intervista rilasciata da De Laurentiis in cui ha detto bufala 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 e bufala questo e bufala quest'altro e bufala quest'altro e ha parlato di alcune operazioni di mercato quindi smentendo tutto con i suoi modi sempre molto eleganti devo dire ho evitato di parlarvene perché non mi va di dare sempre comunque spazio a queste cose becere che spesso e volentieri riguardano il napoli e il tifo napoletano però questa questione adesso ha riscontrato ha avuto un seguito veramente veramente interessante che è la risposta di un calciatore sto parlando appunto delle dichiarazioni di De Laurentiis sulle operazioni di mercato sulle smentite di De Laurentiis sulle operazioni di mercato in cui ha detto che Di Maria e Benzema lui non li vuole perché ha un patto con Ancelotti vuole giocatori giovani e quindi non va a prendere degli vecchi questa dichiarazione a me sinceramente ha dato un fastidio enorme perché tu sei un presidente di una società di calcio non puoi permetterti pubblicamente di dare degli appellativi qualunque essi siano ma comunque diciamo offensivi nei confronti di altri giocatori di giocatori di tesserati di campioni di professionisti e quindi però dicevo vabbè saranno le classiche dichiarazioni di De Laurentiis riportate come sempre dalla stampa soprattutto dalla stampa amica che è veramente tantissima per quanto riguarda il napoli e finirà lì invece no per fortuna per fortuna questa volta c'è stata una replica ed è stata la replica diretta di Karim Benzema che quindi visto si chiamare vecchio leggendo la notizia in francese quindi che è stata riportata dai media francesi in cui si riportavano le parole di De Laurentiis con una storia su Instagram gli ha risposto che semplicemente questo qui è un altro dei folli dei pazzi che Benzema quindi iscriverà alla sua lista la sua personalista di pazzi che parlano e poi ha aggiunto il numero 9 vi rende pazzi con un riferimento evidentemente alla questione Higuain quindi qualcosa Benzema anche sapeva saputo o gli è stato riferito circa tutto quello che è successo negli ultimi due anni dopo il passaggio di Higuain dal Napoli alla Juventus tutto quello che è successo sul fronte Napoli quindi bellissimo Benzema che chiama pazzo De Laurentiis pubblicamente e che quindi tra l'altro dà quello che merita a De Laurentiis e a Napoli una visibilità negativa a livello internazionale nei confronti dei grandi campioni cioè pensate la Juventus è la squadra che prende Cristiano Ronaldo dal Real Madrid dopo 5 Champions e 5 palloni d'oro il Napoli è la squadra che viene derisa da un campione come Benzema che ha vinto tantissimo anche lui dopo essere stato chiamato vecchio che appunto risponde al presidente Napoli chiamandolo pazzo tutto bellissimo quello che veramente si merita il presidente De Laurentiis vorrei essere tifoso del Napoli per un giorno ma anche solo per un'ora per capire come cazzo si fa a sopportare De Laurentiis come si fa a non ribellarsi a questa figura a questo personaggio che fa solo esclusivamente il male del tifo napoletano dei tifosi del Napoli questo lo dico in maniera molto serena ovviamente fa il suo lavoro De Laurentiis fa il suo lavoro lo fa probabilmente anche molto bene molto meglio di come potrei farlo io che non sono il presidente della squadra di calcio però mi pare evidente che se parliamo di immagine del Napoli De Laurentiis danneggia assolutamente i tifosi li mette veramente in difficoltà e non gli consente anche di sognare in grande perché se magari qualcuno aveva sognato Di Maria o Benzema arriva De Laurentiis boom sono due vecchi non li voglio chiaro che Benzema e Di Maria non ci verranno neanche nel 2000 mai al Napoli e invece pare che Benzema possa andare al Milan trattativa secondo me da prendere molto con le molle però anche qui vediamo addirittura una squadra come il Milan una società come il Milan con una situazione societaria veramente disastrosa e disastrata che però riesce comunque ad andare in Europa League e magari riesce ad acquistare uno tra Morata e Benzema con buona pace del Napoli che compra Verdi con tutto il rispetto per Verdi che a me piace e tutti quelli che ha comprato e che poi si spende con queste dichiarazioni tramite il suo presidente che veramente non fanno altro che gettare discredito su questa società che quindi mai e poi mai di questo passo diventerà una grande società di calcio al pari appunto non dico della Juventus che è proprio lontana anni luce ma neanche del Milan che si è posizionato in classifica anche ben dietro il Napoli eppure mi sembra che abbia proprio un valore come società e sportivo nettamente superiore al Napoli in questo momento che risate ragazzi grande Karim Benzema se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che farò lasciatemi i vostri commenti mi raccomando niente insulti per nessuno neanche per De Laurentiis qui sotto in descrizione trovate i link per seguirmi sui miei profili social fateci un salto a presto e sempre Forza Juve